Buongiorno, Mist, Must, Finch, è l'October 9, 2021, è il Saturday, è in Naples, 71 F, around 22 C, questo significa che quella giornata veramente, 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 veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, anche se c'è un vento, un vento un po' più fresco, comunque è sempre una piacere l'atmosfera. E oggi, perché è quasi sempre sicuro che dirà la frase su Weekend Projects, insomma, ringrazio e ricambio per i suoi, una buona fortuna per i suoi Weekend Projects, anche se, nel mio caso, in fondo poi sono gli stessi della settimana, forse stavo pensando alla fiction italiana, non il rispetto, anche se ci penserò meglio domani, poi vedremo, perché? Vedremo anche in generale. Vedremo anche in generale, oggi, per me, non abbiamo questi bellissimi sky e golden sunshine, sì, c'è un buon sun, c'è un buon sun, ma credo che, come sta succedendo in questi giorni, poi dopo si annuvolerà, se non pioverà anche un po' la sera, ma come sempre, vedremo, 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 sapete, vedremo qui, da una scuola, con un cerchio d'acqua con il color del cortin, è bella, con il color del cortin, oggi, e questo, un giro di schieno, dietro, contro me, And finally, from my mythical keyboard, have a great day, him and everyone too.